8-0 per le premiazioni di un torneo particolare, la festa del primo maggio, quindi a coppie, delle coppie pilotate, pilotate non sappiamo bene come, all'inizio della giornata, ma pilotate, ok, e che hanno portato ad una bellissima finale. Eccoli qui i quattro finalisti e andiamo a conoscerli velocemente. Dicci il tuo nome? Io sono Giovanni. Giovanni, mi raccomando, dillo più alto così lo sento anche. Giovanni. Giovanni, in coppia con Federico. Io sono Anna. Anna. E Michele. Michele, chi ha vinto? Mi ha vinto lei. Ha vinto lei, eh, vedi che bel cavaliero, ok. Ha vinto lei. Tu invece devi dire che ha vinto lui, giusto? E che meritavano di vincere. E che meritavano loro, perfetto. Allora, tutto questo lo facciamo direttamente con una bella premiazione assieme a chi ha dato vita a questa bellissima giornata. Le facciamo anche un applauso a Roberta Frisiero, eccola qui, la maestra del circolo 6.0. Ciao, ciao Roby. Ciao a tutti, ciao, grazie. Allora, cosa dici? Cosa diciamo oggi? Dico che questi campioni, a fine di questa splendida giornata, abbiamo anche dei premi strepitosi direttamente dall'Australian Open, un po' di meno che per i nostri campioni abbiamo, accidenti, Australian Open, original, original per la signora Anna. Grazie. Grazie. A lei, complimenti. Grazie. 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 Allora, cari ragazzi, vi devo solo ricordare una cosa, nel mese di giugno ci dobbiamo ritrovare tutti quanti qui per andare a vedere un bellissimo Open, vero Roberta? Assolutamente. L'Open femminile del 6.0, giusto? 0.0. Inizieremo il 9 di giugno con un torneo strepitoso, siamo già emozionati, immaginiamoci quando arriviamo alla fine, pronti, vi aspettiamo. Questo è solo così, un assaggino per scaldarci. Ok, allora vi aspettiamo tutti bravissimi, bravi. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Scusate, Giuliana, vieni un attimo. Renzo? Renzo? Ok, Renzo? Io sto continuando a riprendere, ragazzi. No, 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 perché insomma l'applauso l'avete fatto a me, però chi ha portato a termine questa giornata incredibile? Un applauso Giuliana, un applauso a Renzo! Ecco, molto bravi e qua il pezzo di 6.0. Grazie.